Ciaba dalla Zorza mostra come non l'abbiamo mai vista. Sempre estremamente affascinante e avvolto in un bel vestito. Ciaba dalla Zorza è noto la sua cucina. Ma anche per tutto il suo essere una donna estremamente elegante e raffinata. Negli anni 70 nei suoi programmi televisivi. Ma anche nei suoi libri sul suo sito. Offre ricette sane e innovative. Una cucina semplice da replicare casa. Adatta a coloro che prestano attenzione ciò che mangi. Cercano sempre di preparare piatti leggeri ma gustosi. In effetti, non c'è carenza di consigli di Bonton negli episodi del suo programma. Elementi degli arti per far sentire gli ospiti coccolati. In breve, Ciaba dalla Zorza ha costruito la sua fortuna. Senza cucina gourmet. Ma anche senza quello che potremmo chiamare piatti della nonna. Offre una cucina diversa. Che potrebbe, in effetti, essere un punto di partenza per molti di coloro che la seguono e lo seguono o ci lo apprezza. Apprezzazione che non deriva solo dalle sue qualità in cucina. Ma anche e soprattutto dalla sua raffinatezza. Alla donna piacciono gli uomini e le donne. Ci sono molti da dire che spesso traggono ispirazione non solo dalle sue ricette. Ma anche dai suoi abiti. Sempre eleganti e mai volgari. Una vera donna di altre volte. La dieta Ciaba per essere sempre perfettamente in forma e mostrarti con un aspetto ben curato. Per invidiare i 20 anni. Ciaba segue una dieta sana. Proprio come la cucina che propone. Spesso anche al momento dello spuntino o dell'apertif. Uno dei suoi piatti preferiti, è le hummus di ceci. Arricchito con la carota. La barbabietola o il razzo. Al suo tavolo non manca mai di verdure in pinzimonio come antipasto. Il suo consiglio è di aumentare il numero di pasti vegetariani nella settimana. La bella Ciaba ha 20 anni se il segreto dell'eterna giovine hospital. Ciaba è bellissima in un abito. Bianco con vici. La foto è scattata da un post sul suo profilo ufficiale Instagram. Usato per celebrare i 19 anni di amore con suo marito. Con una dolce dedizione.